Il Consiglio regionale ha votato la proroga del piano casa, buone notizie per imprese locali del settore e famiglie. Provvedimento voluto e realizzato dal centro-destra, mentre il centro-sinistra sardo si è espresso in maniera contraria. Intanto domenica si svolgeranno le primarie, spazio su CatalanTV ad interviste e approfondimenti. Domani per la politica, presentazione al pedramare della neonata associazione Mondo Nuovo. Nel decreto sviluppo presentato dal Governo e approvato dalla Camera c'è un articolo che potrebbe interessare molto da vicino la compagnia aerea Ryanair. Il provvedimento prevede che il vettore paghi le tasse relativi al personale delle basi nello Stato italiano, che è l'ancora aperta con Aitalia. Intanto da Alghero è partito il primo volo meridiana per Milano Linate. Da qualche settimana la pizzeria La Lucerna di Alghero, prima in Sardegna, si è dotata di quattro scooter elettrici per la consegna a domicilio delle pizze. Si tratta di mezzi ecologici ed economici. Abbiamo sentito il proprietario della pizzeria e responsabile per l'isola della Eco Veicoli. Un saluto a tutti voi, ben ritrovati con l'informazione su Catalan TV. Apriamo il nostro telegiornale riferendovi di una notizia di cronaca. Ieri, poco dopo le 18 in Largo San Francesco, c'è stata una lite che è degenerata. Il tutto a causa di un parcheggio, un'auto assostato all'ingresso del cantiere del Qualtè, ostruendone l'uscita. Alcuni operai e il padrone della stessa auto, dopo un alterco, sono anche venuti alle mani. Sul posto è intervenuta una volante della polizia che li ha identificati. Presente è anche un'ambulanza che ha soccorso il proprietario dell'auto parcheggiata male. E parliamo di piano casa. Ieri il Consiglio regionale ha votato la proroga fino a tutto il 2013. Buone notizie dunque per imprese locali, del settore e famiglie. Provvedimento voluto e realizzato dal centro-destra, mentre il centro-sinistra sardo si è espresso in maniera contraria. L'aula si è espressa col voto finale sulla legge, che è stata approvata con 39 voti favorevoli, 22 contrari e 3 astenuti. Approvata dal Consiglio regionale la proroga al piano casa, gli interventi edilizi potranno essere realizzati fino a tutto novembre 2013. Da segnalare subito che mentre il centro-destra oggi ha il governo regionale, ha fortemente voluto questo provvedimento che rappresenta per molte imprese una boccata d'ossigeno e per tante famiglie la possibilità, in un periodo di crisi, di ampliare la propria residenza, spesso a favore dei figli o parenti prossimi, il centro-sinistra è contro questo piano casa. Luciano Uras, di Sinistra Ecologia e Libertà, ovvero il partito di Vendola, ha detto in aula, assessore questo strumento non è portatore di sviluppo e regala incertezze agli operatori economici. L'Italia dei valori per bocca di Adriano Salis ha detto che queste norme sono inconsistenti per l'economia. Di parere opposto Matteo Sanna, consigliere regionale di Fli, partito di maggioranza. Le considerazioni dell'onorevole di sinistra Uras devono essere rispedite al mittente. I sardi si sono già fatti un'idea della vostra concezione dell'urbanistica e hanno già detto che non sono d'accordo. Contrario al piano casa anche il partito democratico. Per lotto è ferma la contrarietà a questa proposta di legge. Si tratta di una proroga di 12 mesi che mette in evidenza il vostro vero obiettivo, rendere permanente ciò che doveva essere provvisorio. Sulla stessa posizione Gian Valerio Sanna, già assessore all'urbanistica di Soru, che ha detto questa è una maggioranza di piccoli uomini e di gente senza prospettiva. State incrementando la cultura dell'individualismo e rinunciate ad andare lontano. Risponderete di questo. Ma è stato stocchino del popolo della libertà? Asco per chiare il vaso di Pandora. Non riesco a capire la differenza tra il centro-sinistra sardo e quello pugliese, che governa la regione Puglia e che ha prorogato il piano casa al 31 dicembre 2013. Per Campus, l'unico atto che in questi anni di governo del centrodestra ha prodotto oggettivamente degli effetti richiesti ancora dai territori è il piano casa. E poi l'assessore Rasso. A volte i piccoli uomini hanno fatto grandi cose, caro onorevole Sanna. Il piano casa rimane uno strumento straordinario, nel senso che è un atto eccezionale. Fino a quando non avremo la revisione del PPR, con regole certe, non parole vane, anche il piano casa serve. E oggi in due anni ha prodotto oltre 19.000 stanze. Questo vuol dire lavoro e dare qualche giornata a chi non riesce a campare. Smettiamola con queste parole. Anche dalla vostra parte è stata una processione di quelli che caldeggiavano il piano casa. Domani, venerdì 23 novembre, si terrà dalle ore 20 e 30 presso il locale ristorante Pedramare, in località La Speranza, sulla strada Perbosa, la presentazione dell'Associazione Mondo Nuovo, neonata realtà che si occupa di cultura, sociale e politica, composta da diversi rappresentanti del mondo locale e dell'imprenditoria alla politica. La serata prevede anche una cena a buffet, l'intermezzo musicale del coro polifonico di Codron Janus e l'intrattenimento della pop rock band Evolution. Ennesimo cambio alla guida degli assessorati regionali dell'Udc, qualcuno l'ha definita una porta girevole. In effetti non si contano più le dimissioni e le nomine, in particolare quelle causate dalle scelte del capo indiscusso dello scudo crociato, Giorgio Oppi. Ultima in ordine di tempo quella di lunedì, che vede le nuove dimissioni di Oppi, assessore all'ambiente, dopo che aveva preso il posto di Uras. Al suo posto nella giunta alla guida della regione, entra il consigliere regionale Andrea Bianca Reddu. Sono stanco, ho lavorato tanto, spiega Oppi. E poi continua. Il mio gesto non ha significati legati ai scenari politici futuri, ma oramai tutti sono abituati alle mosse del leader centrista. Non appena si avvicinano le scadenze elettorali, Oppi lascia la giunta per avere mani libere. Domenica si iterano le primarie del centro-sinistra per eleggere il candidato a premier della coalizione. Spazio su CatalanTV agli appelli al voto per i tre maggiori candidati, con anche un approfondimento che andrà in onda questa sera alle 21. Sentiremo Tedde per Renzi, Dinolfo per Vendola e Daga per Bersani. Nonostante facciano parte della stessa coalizione evidente la divisione, pareri opposti su molti argomenti. Ma partiamo con il capogruppo consigliere del PD, Matteo Tedde. Mancano tre giorni all'appuntamento delle primarie del centro-sinistra, che vedono in campo cinque candidati. Bersani, Renzi, Vendola, Tabaccio e Puppato. E da oggi fino a sabato CatalanTV da spazio all'appuntamento di domenica con interviste e approfondimenti. Intanto si è registrata qualche lamentela tra iscritti e simpatizzanti per via dei troppi moduli da compilare e firmare per essere ammessi alla consultazione elettorale. Difficile parlare adesso di previsioni per quanto riguarda la flussa alle urne e riguardo l'esito. Anche se è chiaro che Bersani è netto vantaggio. Si parla addirittura di 10 punti percentuali sul secondo, che è sempre secondo i sondaggi, Renzi al 38%, mentre l'ex ministro allo sviluppo economico è al 48%. Percentuale molto bassa per Vendola, fermo al 10. Poi seguono gli altri, ma come detto si tratta di analisi pre-voto. Si votano i gazebi allestiti in tutta Italia, dalle 8 alle 20. Per poter votare, si spiega sul sito del PD, è necessario iscriversi all'albo degli elettori. È possibile farlo online sul sito primarietaliabenecomune.it. o recandosi nelle sedi territoriali elencate, sempre nel sito, presentando la propria tessera elettorale o la carta d'identità. Possono votare i cittadini italiani, i comunitari residenti in Italia o extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, che abbiano compiuto 18 anni al 25 novembre. Nel nostro telegiornale, e dopo come speciale, spazio a Tedde per Renzi, Dinolfo per Vendola e Daga per Bersani. E come detto, partiamo con il sentire. Matteo Tedde, del PD. Perché votare Renzi? Intanto dico, andiamo tutti a votare a queste primarie. Impieghiamo un po' del nostro tempo per partecipare a questo grandissimo evento. Perché io credo che sarà una grande vittoria per tutti, per il Paeto Democratico, per l'intero centro-sinistra, se saranno tante le persone che si recheranno le urne. Perché votare Renzi? Perché secondo me, da un'analisi dell'ultimo ventennio politico in Italia, che ha riguardato sia il centro-destra che il centro-sinistra, mi sembra quello che abbia e che porti avanti le proposte più innovative, che vengono anche documentate in maniera precisa, senza esagerazioni e senza strumentalizzazioni. Nello specifico, Renzi può essere il garante di un reale ritorno della politica nelle mani dei cittadini, di una reale possibilità da parte di chi non ha grandi mezzi di poter intraprendere una carriera politica e di potersi fare largo e mettere in evidenza le proprie qualità, garantisce un ricambio che non è un ricambio generazionale, ma un ricambio politico. Non si fa riferimento ad età anagrafica, ma si fa riferimento a permanenza all'interno delle istituzioni. Non è pensabile che un consigliere regionale rimanga in carica per 15 anni, che un deputato rimanga in carica o un senatore per 20 anni e questo vale anche per i consiglieri comunali e provinciali e così via. Il primo segnale in un periodo di crisi come questo sarebbe senza dubbio quello di battersi in primo luogo per l'eliminazione dei contributi pubblici ai partiti e in secondo luogo quello di garantire primarie sempre per ogni candidatura, dalle elezioni comunali a quelle provinciali, regionali e ovviamente a quelle politiche. La parola sempre ai cittadini e non più soltanto alle segreterie di partito. Venerdì 23 novembre alle 18.30 nella sala conferenze del Chiostro di San Francesco si terrà un incontro pubblico nel corso del quale si dibatterà sulle ragioni del sostegno a Pierluigi Bersani, candidato alle primarie Italia, bene comune che permetteranno di eleggere il candidato premier della coalizione centrosinistra alle elezioni politiche del 2013. Interverranno Silvio Lai, Giuseppe Lorenzoni, Mario Salis, Mario Bruno, Gian Valerio San, Enrico Daga, Gabriele Esposito, Raimondo Cacciotto, Gavino Scala e Gavino Tankis. Cambiamo argomento, abbiamo parlato già diverse volte nel nostro telegiornale dei disagi creati dal tappeto di foglie che è presente su numerosi marciapiedi cittadini. Le segnalazioni continuano a giungere alla nostra redazione in special modo da parte di persone anziane che hanno paura di scivolare mentre percorrono i camminamenti, soprattutto quando piove. È necessario incrementare il servizio di ripulitura e spazzamento. Alghero e i suoi tappeti di foglie aumentano le segnalazioni dei cittadini stanchi di dover percorrere marciapiedi in vase del fogliame. Si sa che in autunno per natura gli alberi perdono le foglie, ma quest'anno la presenza sui camminamenti è davvero eccessiva. Le persone, in special modo quelle più anziane, hanno paura nel percorrere tratti di marciapiede, in special modo quando piove. La presenza del fogliame rende infatti questi ultimi viscidi e scivolosi e dunque molto pericolosi. Gli operai stanno provvedendo allo spazzamento in alcune zone, stamattina ad esempio erano impegnati nella via Matteotti, ma la situazione resta comunque problematica anche perché le foglie cadono copiose ogni giorno e occorre che il servizio sia reso più efficace. Non è la prima volta che ci occupiamo di questo problema, ma guardando le immagini girate ieri pomeriggio si può notare come le segnalazioni della gente non siano esagerate. I cittadini chiedono all'amministrazione che venga aumentato il servizio per la ripulitura in modo tale da diminuire al minimo la copertura delle foglie sui camminamenti. E ci spostiamo adesso nel vicino comune di Olmedo dove ci sono state alcune modifiche alla viabilità. Secondo il consigliere Tony Faedda, capogruppo di Uniti per Olmedo, questi cambiamenti stanno creando diversi disagi. È stata quindi presentata un'interrogazione che vede firmatare anche i consiglieri Isoni, Sifu e Piras. È il consigliere comune a Lettoni Faedda, capogruppo di Uniti per Olmedo, il primo firmatario di un'interrogazione riguardo le modifiche alla viabilità nel comune. Il documento è sottoscritto anche dai consiglieri Isoni, Sifu e Piras. In base a quanto riportato, le modifiche alla viabilità urbana con l'istituzione di nuovi sensi unici e arie vettate alla sosta degli autoveicoli stanno creando dei disservizi. Faedda e gli altri consiglieri firmatari scrivono che queste modifiche sono state apportate senza un adeguato coinvolgimento della comunità, in mancanza di una profondita valutazione degli effetti ricadenti sul traffico urbano, nonché dei disagi eventualmente causati ai cittadini. Così la completa eliminazione di ogni area di sosta in via Kennedy e via Roma favorisce il passaggio di autoveicoli a elevata velocità, con grave pericolo per l'incolumità dei nostri concittadini, contribuendo al tempo stesso ad aggravare la crisi degli esercizi commerciali, molti dei quali negli ultimi mesi hanno dovuto cessare la propria attività. Inoltre l'inversione del senso di marcia nella via Pascoli dà luogo quotidianamente a lunghe file di autovetture, soprattutto in occasione dell'inizio e fine delle lezioni scolastiche. Sempre in base a quanto riportato nell'interrogazione, diversi genitori hanno lamentato la scarsa presenza delle aree di sosta in prossimità della scuola materna, problemi evidenziati nella petizione presentata nello scorso mese di ottobre ed intesa a sollecitare l'amministrazione comunale alla rettifica delle decisioni assunte. Tuttavia, scrivono ancora, tale istanza sottoscritta da numerosi cittadini è rimasta tutt'oggi, nonostante il tempo trascorso, senza alcun riscontro da parte della giunta comunale. Per questo nell'interrogazione viene chiesto al sindaco e all'assessore competente quali siano le decisioni che intendono assumere, se sia prevista la convocazione dei firmatari della petizione, al fine di adottare ogni provvedimento necessario per l'eliminazione dei disagi. Ed ora diamo la linea alla regia, c'è la pubblicità tra poco.